Grazie per farmi inaugurare questa serie di colloqui del 2024 che sono sicuro avranno successo come è stato per il 2023 e grazie anche per aver menzionato questo convegno che abbiamo organizzato insieme con Francesca Casadio e Antonio Sgamellotti che ha visto praticamente riuniti o in presenza o in remoto ricercatori italiani che operano nei musei del mondo più prestigiosi come potete vedere dalla National Gallery al Metropolitan Museum di New York, al Getty Institute di Los Angeles e veramente appunto è stato un convegno molto molto bello, molto interessante vedere appunto questi giovani italiani che veramente si fanno onore all'estero in queste posizioni così di apicali è stata una grande soddisfazione e veramente poiché appunto le registrazioni delle sessioni sono tutte in rete sono tutte sul nostro sito web. Consiglio veramente di passare un po' di tempo per ascoltare queste bellissime presentazioni sui risultati che hanno ottenuto e mi riferisco appunto a una delle protagoniste di questo incontro che è stata la dottoressa Clara Granzotto e Clara Granzotto nel suo blog ha riportato appunto un po' la ragione per cui è importante e interessante studiare le proteine nel campo dei beni culturali perché le proteine si interessano e perché sono i ligandi che legano praticamente i pigmenti sono stati i primi ligandi che legano i pigmenti vedremo un'altra che addirittura possiamo risalire a 50.000 anni fa per osservare questa preparazione diciamo che è utilizzata per disperdere i pigmenti per poter utilizzarli poi nelle tecniche pittoriche e riferimento a quali materiali sono praticamente banalmente uova, latte, collagene, quindi geratine in generale ma questi ingredienti che appunto dice la Granzotto sono stati utilizzati in passato per realizzare la tavolozza dei colori scoprire le proteine utilizzate dagli artisti nelle loro opere può fornire informazioni sulle loro tecniche sui materiali che avevano a disposizione e su dove li avevano ottenuti quindi lo studio di queste proteine nevi soprattutto nelle opere pittoriche ha una importanza perché comprende di capire questi processi che sono stati a valle dell'opera pittorica stessa e può essere qualche volta indispensabile aggiungerei per lo sviluppo di opportuni trattamenti di restauro e conservazione e quindi scoprire le proteine ovvero identificare le proteine in questo tipo di materiale però non è un processo banale voglio dire e in effetti praticamente il primo scienziato a interessarsi di allargamento fu addirittura un premio Nobel o Willem Oswald che nel 1909 in questo volume intitolato Lettere ad un pittore sulle teorie pratiche della pittura metteva in evidenza come i pigmenti pur essendo gli stessi tuttavia possono apparire molto diversi nel lavoro finito a causa del sistema legante il sistema legante che è costituito dal materiale proteico in cui sono disposto e introdusse per la prima volta una modalità analitica anche oggi la diremmo poco raffinata ma per i tempi era di una notevole importanza soprattutto in istologia quindi introdusse appunto la tecnica iconoscopica come primo momento di diagnostica scientifica delle proteine nelle opere d'arte che era basata appunto sull'uso di coloranti che venivano usati in istologia e che in qualche maniera potevano definire proteine del latte generalmente o proteine dell'uovo ma in maniera piuttosto piuttosto diciamo generica e laddove invece si deve a un ricercatore e dall'altro appunto di una struttura museale certamente importante come la National Gallery ha un approccio diciamo più moderno siamo però appunto alla fine degli anni 60 quindi un vero e proprio salto di qualità quando mette appunto presso il gabinetto scientifico della National Gallery allora sofisticato e sensibile metodo di analisi basato analisi di amminoacidi utilizzando la gas cromatografia accoppiata allo spettro metodo di massa cioè si passa da un dato puramente qualitativo a un percorso analitico diciamo più approfondito a livello molecolare perché si vanno ad analizzare la composizione in amminoacidi di questo materiale proteico e quindi praticamente si hanno dei dati diciamo in termini quantitativi che sono correlabili con le specie molecolari e si utilizza praticamente per un sistema estremamente sensibile il quale era appunto e tuttora il sistema della gas cromatografia accoppiata alla spettromedia di massa mi permetto di sottolineare la lungimiranza di una struttura museale che si dota ai fini di approfondire le indagini scientifiche del proprio matrimonio culturale di una strumentazione particolarmente avanzata a quei tempi e direi quanti abbastanza costosa questa metodologia fu successivamente raffinata e ampliata dagli studi di Maria Perla Colombini e dei suoi collaboratori all'Università di Pisa in questo uno dei primi lavori e in particolare il gruppo pisano lo utilizzò con successo il metodo statistico dell'analisi delle componenti principali il grafico che potete vedere qui si riferisce a questo e come si può immediatamente vedere la composizione in amminoacidi in qualche maniera ci guida sulla tipologia di materiale utilizzato nei vari quadranti potete vedere le proteine del latte le proteine dell'uovo e le proteine del collagene in definitiva tuttavia appunto la stessa professoressa Colombini in effetti ci avverte che i problemi analitici legati a questa caratterizzazione sono particolarmente difficili da affrontare a causa di che cosa? della presenza contemporanea e più legante la presenza contemporanea e più legante ci dà delle composizioni in amminoacidi che sono relative poi ai rapporti tra le varie proteine alla degradazione del materiale originale scompaiono praticamente le composizioni in amminoacidi comprende anche amminoacidi e derivati di amminoacidi che sono stati praticamente prodotti di degradazione e infine praticamente la problematica su cui poi torneremo soprattutto alla fine la quantità molto limitata addirittura praticamente l'impossibilità molto spesso di poter accedere all'opera perché appunto la causa del problematica dell'invasività il prievo del materiale è un problema diciamo di notevole rilevanza per i conservatori e curatori dei musei tuttavia alcune delle difficoltà che sono rappresentate dalla Colombini in questo chiarissimo quadro che delinea i problemi analitici di quel tempo sono superati in effetti da questo studio che in qualche maniera possiamo considerare come il primo studio che introduce questa tecnica proteomica nello studio dei beni culturali e infatti identificano diciamo in quest'opera della tavola di Benedetto Bonfigli un pittore perugino del 400 proteine dell'uovo questa sequenza che è sottolineata in questa una delle figure è quella appunto della vitello gene un peptide della vitello genino un peptide tipico del tuorlo dell'uovo in un campione di appena 10 microgrammi e quindi diciamo in qualche maniera è una dimostrazione di un dettaglio molecolare cui non si poteva pervenire attraverso l'analisi degli amminoacidi ma attraverso la determinazione della sequenza di una parte della proteina che comunque poi consente di definire la proteina interna ma c'è scarso interesse alla fine l'importante è in qualche maniera avere l'informazione di sequenza che a differenza dell'informazione ricreativa la composizione di amminoacidi ci dà un quadro molecolare più diciamo definito e più confidente due parole a questo punto sul che cosa è questo punto mi scuso per i colleghi che ovviamente queste cose le conoscono molto bene ma mi riferisco anche al pubblico più vasto che eventualmente potrà poi riprendere questa pre-registrazione che cos'è proteomica il termine proteomics in effetti come potete notare a vedere è la crasi delle due parole proteins e genomics e fu coniato da un studente di dottorato australiano del 1994 Mark Wilkins lanciato in occasione di un convegno che si tenne a Siena in quell'anno che si cominciava praticamente in qualche maniera a avere l'emozione che si poteva fare un'analisi delle proteine non in maniera individuale come finora praticamente fino allora da questo modo si era fatto ma si poteva fare un'analisi delle proteine in maniera globale e quindi si può dire si può trovare questa definizione come la proteomica che consiste nell'analisi globale delle proteine espresse da un genoma mediante che cosa? Mediante l'uso integrato di chimica delle proteine spettrometria di massa bioinformatica e queste praticamente sono il percorso che si segue nel studio di una progettualità proteomica come potete vedere in effetti si parte ovviamente dal campionamento e dall'estrazione delle proteine e dopodiché la miscela di proteine viene sottoposta ad un eventuale trattamento chimico ma soprattutto viene sottoposto ad un processo di digestione mediante un enzima di elezione e la tripsina e quindi si ottengono dei frammenti peptidici frammenti peptidici che vengono innanzitutto separati per cromatografia ad alte prestazioni HPLC e successivamente il HPLC è collegato con uno spettrometro di massa con uno spettrometro di massa che si chiama tandem perché a questo punto non posso addentarmi molto ma il concetto è questo cioè le specie molecolari presenti in ciascun picco danno luogo utilizzando il primo spettrometro di massa ha una serie di ioni molecolari relativi alle specie molecolari presenti nel picco cromatografico e poi dai picchi cromatografici dai picchi gli ioni più intensi nel primo spettrometro di massa presenti nel primo spettrometro di massa vengono in qualche maniera lanciati in un secondo spettrometro di massa però dopo che sono stati frammentati e la frammentazione avviene su una base statistica a livello dei legami medici dei legami peptidici e quindi statisticamente in effetti si ricostruisce la successione degli amminoacidi presenti in quel specifico proteino in questa maniera si possono identificare le proteine andando poi a interrogare le banche dati genetiche quindi i tre momenti che avevamo detto prima cioè la parte la chimica delle proteine la spettrometria di massa e se volete la bioinformatica ora in effetti sono condensati in questa diapositiva che in qualche maniera è riassuntiva della un po' della situazione allora le ragioni di una primazia che abbiamo in questo campo sono legate se volete a questo strumento a questa macchina questo è uno dei primi spettrometri di massa ad alta risoluzione presente in Italia fu acquisita dall'università di Napoli nel 1966 grazie all'impegno e all'entusiasmo di Alessandro Baglio che sempre con molta commenzione ricordo non solo come nostro consocio ma anche come mio indimenticabile e indimenticato maestro anzi in questa occasione mi piace ricordare a proposito della mia iniziazione a questo impiego combinato di chimica delle proteine e di spettrometria di massa quando appunto il Baglio mi informò del finanziamento mi sullecitò ad aprirmi anche a questa nuova metodologia analitica e ricordo appunto che era un po' prima della vacanza di Natale del 66 mi suggerì di andare a visitare il laboratorio di l'instituto di Mediosustanze Natural di Giff Surivet diretto da Edgar Lederer che era suo caro amico e un grande scienziato e aveva appreso da Lederer che in effetti erano riusciti con una macchina di questo tipo a sequenziare un piccolo peptide la mia obiezione che in quel momento ero impegnato con non pochi sforzi a sequenziare una proteina ben notevole di peso molecolare ben superiore a quella di un peptide mi rispose con lapidario diciamo d'altra parte chi ha conosciuto Baglio può immaginare il tipo di risposta che poteva dare a una obiezione di uno giovane laureato che faceva un po' di diremo i suoi suggerimenti e chi glielo dice che tra dieci anni non sarà possibile sequenziare anche le proteine con la spettrofometra di massa in effetti ci vuole un po' più di dieci anni devo dire ma aveva previsto in maniera esemplare il successo poi di questo tipo di metodologia e effetti praticamente il nostro primo lavoro risale al 68 stiamo parlando ancora di aminoacidi ma dopodiché praticamente abbiamo portato una serie di contributi piuttosto importanti e rilevanti mi sia consentito dirlo in vari campi della biochimica e della biologia strutturale delle biotecnologie in definitiva perché in effetti noi siamo stati tra i primissimi a validare le proteine ricombinanti che insomma in definitiva spesso io dico che noi facevamo proteomica prima che il termine proteomica venisse inventato devo andare un po' più veloce e quindi vi racconto rapidamente questa storia che è legata al mio coinvolgimento nel campo dei bieni culturali perché era appunto a finire nella fine del fu invitato nel 2006 2007 fu invitato dai colleghi del Dipartimento di King dell'Università di Pelaugia a tenere un seminario sulle prospettive della proteomica nella ricerca chimica in conclusione del mio intervento mi pare opportuno citare per dimostrare l'ampiezza delle applicazioni della proteomica anche il risultato recente che aveva stato ottenuto dai ricercatori francesi che ho menzionato prima è Antonio Spaghermi Chiamellotti che ha già internazionalmente conosciuto per le sue applicazioni di tecniche spettroscopiche nel campo dei beni culturali mi chiese se volevo cimentarmi in un'impresa impossibile identificare eventuali materiali proteici in alcuni frammenti in effetti sono scheggette che erano stati raccolti dopo il crollo della volta della Basilica di San Francesco in seguito al terremoto del 1997 e che si sospettava contenessero proteine bene il questo è il campione le dimensioni del campione su cui due anziché erano 4-5 dei campioni che erano stati raccolti e potete appunto notare il rapporto in confronto con l'ugno della nostra collega dimensioni di questo materiale e quindi abbiamo analizzato questi frammenti e questo è stato il primo risultato la procedura l'ho illustrato precedentemente sconfortante perché c'erano cheratine cheratine del umane e cheratine porcine ovviamente erano praticamente il prodotto delle manipolazioni di questo materiale con le mani e eventualmente ancora un residuo di spennellature con pennelli che notoriamente sono fatti con materiale diciamo di maiale la mia collega fu bravissima a capire che per poter scovare sotto questa quantità di cheratine era necessario fare un'operazione di pulitura informatica dei dati e quello che successe appunto arrivamo a definire che c'erano alcuni campioni che contenevano essenzialmente latte bovino caseina e c'era in particolare poi un campione che conteneva solo e soltanto il rossoduo e quindi diciamo questo risultato ci fu parecchio di certo successo e quindi successivamente il momento diciamo in qualche maniera che è molto importante nel nostro percorso avvenne quando Maria Perla Colombini ci convolsi sulla caratterizzazione di alcuni dei frammenti dello stupendo affresco che potete vedere a minare ora recuperato nel cimitero monumentale di Pisa raffigurante il trionfo della morte l'affresco era stato severamente danneggiato durante il bombardamento del 44 fu recuperato dalla parete danneggiata e dopo varie vicissitudini a partire dal 2008 tuttoposta una definitiva e dedicata opera di restauro che si è concluso nel 2018 al gruppo di Pisa era stata affidata la caratterizzazione di materiali organici e dei residui di proteine presenti nei frammenti e il grafico che loro avevano ottenuto in qualche maniera era focalizzato su sette campioni ma ben quattro la caratterizzazione del materiale proteico risultava incerta non era una classificazione non era ricativa in un range affidabile del grafico dei PCA e quindi si ripeteva con Perla Colombino la sfida perfino più impegnativa rispetto a quella che c'era stata lanciata dagli amici perugini vi mostro una delle tabelle del lavoro che abbiamo pubblicato in effetti in questa tabella sono riassuti alcuni dei risultati in cui vi è certezza delle proteine presenti innanzitutto qui si nota la copresenza il caso tipico della copresenza di proteine del latte e del collagene e quindi è chiaro che a questo punto era complicato poter la composizione di amminoacidi era la risultante non di una specie proteica di proteine di una stessa specie diciamo della stessa tipologia di materiale ma era la composizione di amminoacidi di una miscela di proteine e e quindi praticamente l'identificazione era possibile soltanto la presenza a questo punto in quei residui sia di collagene che di caseina in qualche maniera definiva meglio eventualmente gli interventi da effettuare e l'altra cosa molto importante che avevamo già in qualche modo osservato precedentemente sulle prodotti sulle schegge diciamo della basilica di Assisi è che una notevole percentuale di peptidi era di amidato molto rapidamente in effetti nella proteina noi abbiamo tra i 20 amminoacidi presenti due amminoacidi in particolare l'asparagina e la glutamina che sono dei amminoacidi che hanno dei residui laterali con un legame con la presenza di un ammide le ammide possono essere idrolizzate chiaramente chimicamente ma in effetti col tempo le condizioni ambientali producono praticamente una certa una lento deamidazione si parla addirittura di un orologio biologico tuttavia il dato molto importante e rilevante in questo caso è che il diciamo il dato diciamo della ragione per cui l'analisi di amminoacidi non poteva risultare probante era dovuta anche al fatto che noi ora avevamo un aumento notevole di residui sia di acido aspartico il prodotto della diamidazione dell'asparagina sia di acido glutamico il prodotto di diamidazione dell'acido della glutamina e quindi praticamente a questo punto quel dato non poteva essere sensibile in questa diapositiva ecco in questa diapositiva appunto dimostro come la la presenza diciamo contemporanea questa è una cromatografia di pipetti trittici e quindi e poi i conseguenti spettri di massa tandem richiamati in quella slide e si può notare la presenza della forma deamidata e non deamidata e perché in effetti c'è una differenza di massa di una differenza di una unità di massa e quindi in qualche maniera ecco questo ci ha fatto ci fece molto riflettere sulle potenzialità della proteomica nel campo del benicolturale perché non solo noi potevamo identificare la tipologia di proteina ma anche identificare i prodotti diciamo relativi alla modificazione e quindi la comprensione anche di questi fenomeni di modificazione è della degradazione infatti citavamo diciamo questo lavoro che suggerivamo che la deamidazione della glutamina che è intrinsecamente più lenta della deamidazione della sparagina questo è un dettaglio importante però sul quale non posso assolutamente soffermarmi potrebbe rilevarsi più utile nella prospettiva quantitativa degli oggetti storici ed essere utilizzata per la valutazione effettiva dell'amidazione e del degrado dell'oggetto stesso e concluderamo appunto che i nostri dati hanno identificato la deamidazione della glutamina come l'esteso processo di deterioramento che si verifica negli oggetti pittorici e aprono la strada all'identificazione di sorta di firme molecolari che possono essere utili per la caratterizzazione delle opere che contengono proteine e suggeriscono un ulteriore sfruttamento delle strategie proteomiche per l'indagine di effetti molecolari dell'invecchiamento da questo nostra osservazione devo dire che nasce una felice intuizione da parte di un ricercatore inglese Matthew Collins che in qualche maniera lo collega con la degradazione del collagene e il collagene praticamente è in qualche modo presente in tutti i reperti archeologici animali e quindi in effetti nasce una nuova sottosezione della proteomica che è la paleoproteomica l'interesse appunto della paleoproteomica ora è veramente diventato bassissimo ho citato un ultimo lavoro ma mi pare mi piace comunque riportarvi questo risultato ottenuto dalla mia collega Laila Birolo a proposito appunto dell'utilizzare il latte come elegante stiamo praticamente all'età della pietra 49 mila anni fa all'incirca gli archeologi erano interessati a comprendere le modalità su cui questo ciottolo era presente era stata fatta aderire l'ocra rossa le analisi spettroscopiche avevano escluso la presenza di sostanze di materiali di natura lipidica e sorprendentemente avevano suggerito la presenza di natura di natura proteica vi ripeto siamo 50 mila anni fa per farla breve lei d'abbilo su un campione piccolissimo procurato ricavato da questa scheggia ritrova praticamente la presenza di latte bovino latte bovino è singolare per avere la presenza di latte bovino in effetti la domesticazione dei bovini al più presto risale a 10 mila anni fa e quindi come si poteva spiegare la spiegazione però appunto viene ancora una volta da una analisi proteomica approfondita è possibile con una esiproteomica come vi ho detto identificare proteine di diversa provenienza e in effetti praticamente in questo campione c'erano anche proteine che potevano essere in qualche maniera correlate con il tessuto connettivo e il tessuto epiteliale bovino e quindi la conclusione diciamo che poi è stata tratta dai scusatemi ho anticipato è stata dagli archeologi che evidentemente questo popolo era un popolo cacciatore e che utilizzava presumibilmente il liquido prelevato dalle mammelle di femmine di tantilobi facile prete ovviamente delle sessioni di caccia come un materiale molto efficiente per legare l'ocra che tra l'altro in quel tipo di popolazione veniva utilizzato per cospargersi sul corpo con rituali che ancora oggi non sono completamente compresi vado rapidamente avanti molto per citare ancora i nostri rapporti diciamo con l'importanza della proteome dell'archeologia e questo lavoro che abbiamo stato svolto in collaborazione con il gruppo della professoressa Greco un'archeologa molto nota molto famosa soprattutto per i suoi studi su Cuma e in effetti questo questo innovazione che abbiamo introdotto cioè di non solo al momento del trattamento della proteina con tripsina farlo precedere da un trattamento con una glicosidasi soprattutto nel caso in cui si sospetta che ci siano presenti proteine dell'uovo e le proteine dell'uovo sono ricchissime di queste decorazioni glicosidiche decorazioni glicosidiche che hanno tutta una serie importante di funzioni ma che in effetti ci disturbano nel momento in cui impediscono l'accesso della tripsina per ottenere una certa quantità di maggiore quantità di peptidi e si aumenta la sensibilità notevolmente andando appunto a rimuovere questo questi residui e quindi io qui praticamente ho riassunto il il un po' le conclusioni che possiamo trarre a questo punto quindi abbiamo la in maniera la proteomica ci consente una identificazione univoca dei leganti proteici un risultato praticamente impossibile ottenere anche con tecniche spettroscopiche avanzate non solo appunto per il discorso dell'analisi aminoacidi ma anche con tecniche di spettroscopia l'identificazione delle modifiche chimiche dovute all'impezzamento e allo stato di sconservazione e la sensibilità a livello di nanogrammi il discorso della sensibilità è cruciale come ho accennato già all'inizio perché in effetti praticamente io ho una necessità di operare con una quantità se possibile bassissima devo in qualche maniera ho una problematica legata appunto alla sensibilità a quello che può essere considerato l'invasività della procedura e voglio appunto in qualche maniera sottolineare il fatto che dato che è scontato che la spettromedia di massa è la base della proteota che la spettromedia di massa è diversa da una tecnica analitica distruttiva che il campione praticamente all'interno della sorgente viene distrutto un'analisi di spettromedia di massa non distruttiva rappresenta quindi una contraddizione in termini non posso parlare di un'analisi di spettromedia di massa non distruttiva o non invasiva e quindi la proteomica non invasiva io penso che possa essere considerata uno simbolo quello che è importante è rendere la proteomica meno invasiva possibile rendere la proteomica più sensibile in maniera o con tecniche chimiche come ho fatto ho citato precedentemente oppure con tecniche strumentali su cui non posso soffermarmi rendere più sensibile devo dire appunto che comunque il tra i giorni scorsi ci sono stati almeno due lavori piuttosto importanti che hanno praticamente appunto raccolto la problematica della dell'invasività con procedure molto molto interessanti in particolare questo è il gruppo che fa capo a Collins e quest'altro gruppo e quest'altro procedura è stata proposta dal gruppo di Pier Giorgio Righetti del Politecnico di Milano noi abbiamo affrontato il problema capovolgendo proprio il paradigma del prelievo e soprattutto dell'idrolisi con mediante l'utilizzazione di un bioreattore che in situ direttamente sul campione ci consente di ottenere i peptidi cioè non più praticamente preleviamo le proteine e poi ex situ andiamo ad agronizzare e ottenere praticamente le peptidi passiamo poi alla sottoponiamo all'analisi con HPLC e poi in effetti facciamo una cosa saltiamo tutti questi passaggi con una metodologia che mi pare interessante illustrarvi e che con cui praticamente concluderò questo mio intervento la metodologia è seguente in effetti praticamente noi utilizziamo come supporto di questo bioreattore i lucidi che ricorderete tutti quanti utilizzavamo per quando si usavano le lavagne luminose nei tempi andati questi lucidi in effetti si usano come supporto come supporto di proteine che per realizzare diciamo le bioreatture noi praticamente ci affidiamo alle proprietà adesive e antifiliche delle proteine dei funghi le cosiddette idrofobine quindi le idrofobine si fanno aderire su questo foglio di trasparente si immobili le proteine le idrofobine una volta seccate possono poi a loro volta intrappolare tripsina la tripsina diventa quasi praticamente un bioreattore in definitiva e questo bioreattore poi appunto può essere adagiato su una superficie pittorica quindi e vengono realizzate le proteine della superficie forse meglio di questa figura in effetti appunto vi dà i passaggi ma forse meglio di questo la descrizione del processo è descritta in questo filmato quindi vedete appunto tagliato in pezzi c'è una soluzione tra l'olica di idrofobine che viene spalmata si lascia asciugare completamente a questo punto si aggiunge la soluzione si aggiunge tripsina ed si asciuga per un po' e il bioreattore è pronto è portatile è flessibile basta inumidire la superficie con il tampone in cui funziona la tripsina per lasciarlo per non più di dieci minuti e poi i peptidi vengono recuperati mediante ripetuti lavaggi e si depositor sulla sulla piastra di uno spettrometro di massa in questo caso con una sorgente Maldi un Maldi un toff toff e si procede con l'analisi e quindi si ottengono gli spettri per i vari frammenti che ci interessano e il dato bioinformatico poi alla fine ci consente di identificare la proteina come potete vedere dall' entusiasmo delle nostre collaboratrici più recentemente il percorso è stato ampliato diciamo qui da un reattore abbiamo due reattori utilizzando praticamente un po' il percorso che avevamo indicato per identificare le proteine dell'uovo quindi viene realizzato un primo bioreattore facendo aderire sul quadratino di poliestere funzionalizzato con la idrofobina la glicosidasi e poi praticamente abbiamo l'altro pronto con la tripsina e quindi in successione si fa questa procedura di analisi questo è il risultato che abbiamo ottenuto in collaborazione con un restauratore del Boston e devo dire appunto che i dati che abbiamo i risultati che abbiamo ottenuti li abbiamo ottenuti attraverso appunto un percorso di questi bioreattori che avevamo predisposto a Napoli li abbiamo inviati a Boston il collega di Boston ha trattato i vari oggetti che desideravano qui c'erano interesse per identificare le proteine sono stati rimandati a Napoli e quindi abbiamo così praticamente in qualche maniera validato il percorso diciamo di portabilità che avevamo in mente concludo naturalmente con i doverosi ringraziamenti in particolare ai miei colleghi già allievi Angela Moresano Piero Pucci Paola Giardino Andrea Carpentieri ma soprattutto ci ha citato altre volte Lela Biro lei ha coordinato un gruppo di studenti di laureanti e di dottoranti in particolare che sono stati poi i protagonisti di questa avventura e ci hanno consentito appunto di ottenere i risultati che vi ho presentato in parte per rispondere a questo quesito riguardante appunto che cosa l'importanza delle analisi delle proteine nei beni culturali vi ringrazio tutti per l'attenzione e siccome appunto è un colloquio mi fa molto piacere colloquiare eventualmente anche in remoto ho lasciato per questo il mio indirizzo di posta elettronica grazie grazie Gennaro e quindi per la conferenza diciamo stimolantissima e chiederei a chi vuole di fare domande considerazioni con io o altro io non vedo nulla ma c'è qualcuno che può intervenire sembrerebbe di no se vedo bene però se io avrei una domanda quella è il vostro collaboratore di Boston appariva come private practice Milton Massachusetts mi pare che fa uno qual è la sua private practice e fa il restauratore ah il restauratore quindi qui ancora è bellissimo e qui per i musei insomma o per i privati insomma esattamente ho visto fotografie oggetti di di veramente svariati interessi come hai potuto vedere dalle fotografie storiche quindi la la gelatina praticamente all'osso all'osso le varie tipologie di corno sì sì di elefante oppure corno di mancutto oppure corno di ma ho capito va bene è una curiosità ci sono altre ma no questo io l'ho citato proprio per mostrare appunto a un certo punto l'ampiezza poi delle applicazioni che è chiaro è chiaro ma trovate sempre latte e uova oppure no 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 ma il problema è questo corrato che in effetti per esempio noi nel nel parodostico del latte per esempio nella cioè una delle delle problematiche che è stata affidata appunto alla mia collega Pirolo erano le identificazioni delle proteine sui frammenti dei Buddha di Bamaina ti ricordi sì sì me li ricordo c'è stata un'operazione dell'UNESCO favolosa perché ha raccolto scienziati e queste statue erano colorate eh sì è chiaro ed erano colorate di rosso di blu di viola allora qual era il legante il legante praticamente appunto in un primo momento ha identificato la caseina quindi bovina latte bovina però poi con un'utilizzazione appunto di un percorso diciamo strumentale più più diciamo sensibile ha identificato anche la presenza di latte di capra e quindi e questo tra l'altro c'è tutto diciamo poi dei riflessi diciamo sul tipo di società che in qualche maniera si incrociava in Bamaina perché in effetti praticamente significava che c'erano allevatori del latte allevatori di pecore e di mucche diciamo e quindi è stato fatto qualcosa sulla scultura romana greca che pure quella era dipinta quindi qualcosa sulla scultura romana greca che pure quella era colorata credo no in effetti non abbiamo mai avuto soltanto l'unico reperto che qui abbiamo avuto accesso sono state queste pitture murali questi frammenti di pittura murale di fuma parlando di 300 400 a.C. insomma e ci abbiamo trovato appunto il rosso d'uovo il che significa che già diciamo l'affresco la tecnica dell'affresco era in qualche maniera in possesso di queste popolazioni va bene dato che non ci sono altri interventi vi do appuntamento per il mese prossimo per Bernard Scheffler e ringrazio ancora di cuore e mi sono divertito grazie Gennaro ciao grazie arrivederci